I 50.000 giovani dello stadio Casarani di Nairobi esultano all'arrivo di Papa Francesco in Papa Mobile come se avesse segnato un gol e prima del suo ingresso si erano preparati facendo ballare anche i Vescovi e il Presidente della Repubblica. Due giovani, Linette e Manuel, rivolgono al Ponteficio alcune domande e poi gli consegnano una placca con i numeri di rosari recitati dai giovani keniani per prepararsi all'incontro. Il Papa risponde in spagnolo a braccio iniziando dalla domanda di fondo perché c'è un desiderio di autodistruzione dell'uomo? Alla base c'è lo spirito del male che ci porta alla disunità, al tribalismo, alla corruzione, alla dipendenza dalla droga. Ci porta alla distruzione attraverso il fanatismo. E quindi come impedire che il fanatismo ci rubi un amico? Attraverso la preghiera, spiega Papa Francesco. Un uomo e una donna perdono il meglio della loro umanità quando si dimenticano di pregare. Perché si sentono onnipotenti e non sentono il bisogno di chiedere aiuto al Signore davanti a tante tragedie. La vita è piena di difficoltà ma si possono guardare o come qualcosa che ti distrugge oppure come una reale opportunità. A voi spetta scegliere, dice il Papa ai giovani, perché potete arrendervi o cercare di vincere. E per vincere il tribalismo che distrugge una nazione, spiega, dovete dialogare e ascoltarvi tra di voi. Invitando poi tutto lo stadio a prendersi per mano e a gridare siamo un'unica nazione. Poi il Pontefice parla della corruzione che come lo zucchero è dolce, ci piace, è facile. Poi finiamo diabetici e anche il nostro paese finisce di ammalarsi di diabete. C'è corruzione non soltanto nella politica ma in tutte le istituzioni, incluso il Vaticano. Se non vuoi la corruzione nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua patria, comincia tu adesso. La corruzione ci ruba anche la gioia, ci ruba la pace, è un cammino di morte. Infine Papa Francesco spiega che il miglior mezzo di comunicazione per divulgare il messaggio di speranza di Cristo è la parola, la vicinanza, anche a chi non ha nessuno. Sono gesti di comunicazione più contagiosi di qualunque rete televisiva. E chiude con un consiglio per quando siete disperati. Guardate la croce, lì c'è il fallimento di Dio ma anche la vostra speranza, la ressurrezione. Io in tasca apporto sempre due cose, un rosario per pregare e una piccola via crucis. Grazie a queste due cose non perdo la speranza.